E' sul piede di guerra Antonio Saitta, presidente della provincia di Torino, che ha fatto ad anfitrione l'incontro durante il quale è stato presentato lo studio sul riassetto delle province italiane, realizzato dal professor Lanfranco Segni e dal dottor Roberto Zucchetti dell'Università Bocconi di Milano. Lo studio dimostra che la soppressione degli enti locali intermedi tra comuni e regioni non sarebbe assolutamente vantaggiosa e comporterebbe un peggioramento dei servizi erogati ai cittadini. Non è così, ha affermato Saitta, che si riducono i costi della pubblica amministrazione. Non è vero ciò che normalmente dicono i commentatori, alcuni leader politici che vogliono l'abolizione delle province, quanto sostengono che abolendo le province si risparrono 12 miliardi. Lo studio a Bocconi dice che invece 12 miliardi è la spesa che le province fanno per svolgere le funzioni. Chiudi le province è la spesa che qualcuno deve fare, non è che non si possono più mettere a posto le strade. Illustrando lo studio dell'Università Bocconi, il dottor Roberto Zucchetti ha spiegato che la ricerca ha preso le mosse da una ricognizione delle fonti informative affidabili, che ipotizzavano un risparmio di 7 miliardi di euro, lo 0,5 del PIL italiano, derivante dall'abolizione delle province. I numeri su cui hanno lavorato i ricercatori della Bocconi vengono dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, dai rendiconti del bilancio del Ministero dell'Interno e dalla pubblicazione Istat relativa ai bilanci degli enti pubblici, tutte fonti statisticamente convergenti. Lo studio dà conto dei differenti livelli di efficienza delle province, ma anche della loro capacità complessiva di contenere le spese correnti a vantaggio degli investimenti. Allora, uno, uscire dalla spesa storica e quindi erogare le risorse sulla base delle necessità. Quanti alunni ha una provincia che deve far funzionare le scuole superiori? Devo dargli dei soldi in proporzione al numero degli alunni, con qualche correttivo. Una provincia montana avrà scuole più distribuite, una provincia pianura più concentrate, ma sostanzialmente quindi prima uscire dalla spesa storica. Secondo, fare in modo che le province meno efficienti imparino da quelle più efficienti. La ricetta proposta dalla Bocconi è quindi un mix di maggiore efficienza, riordino delle funzioni, definizione di un livello dimensionale ottimale, con l'accorpamento delle province inferiori ai 250.000 abitanti in enti più grandi. L'obiettivo realisticamente raggiungibile è un risparmio sulle spese che può partire da 300 e arrivare sino a 500 milioni di euro l'anno. Un discorso a parte è quello relativo allo sviluppo e alla promozione turistica, che secondo i ricercatori della Bocconi dovrebbe rimanere in capo alle province ed essere accorpato con le attività produttive.